Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Essendo che oggi è la giornata della memoria, volevo proporvi tre libri. Uno, diciamo, livello base, uno livello esperto e uno un po' più controverso, ma ha un suo motivo per essere qua. Allora, questi tre libri sono, ovviamente, tre saggi, quindi non c'è né Sequestro, Nuomo e Neppure, Il Diario di Anna Frank, che comunque sono testi che leggono tutti e conoscono tutti. Quindi, il primo libro che volevo consigliare per approfondire un po' l'argomento è questo dell'Aggiunti, che si intitola semplicemente Lager. Questo testo è pieno di foto. Qui abbiamo anche scritto abbastanza grande, quindi penso vada bene anche magari per qualche giovane. E ci dà, guardando l'indice, un'idea generale dei Lager, anche fatta in modo non troppo antico, diciamo, perché abbiamo questo capitoletto introduttivo sulle origini del Lager e prima dei Lager, e una breve storia dei Lager, dove ci insegna che non sono stati un'idea della Germania nazista, ma sono cose a essa molto antecedenti. Quindi, purtroppo, è un capitoletto piccolino, quando è qua, è 10-15 pagine, quindi tre pagine in tutto, diciamo. Che però, in altri libri, diciamo, certe cose non vengono dette. Si parte subito dal 33 della notte dei lunghi coltelli, oppure altri ancora, a livello italiano, partono, tipo, da dopo l'8 settembre, quando sono appunto iniziate le deportazioni in Italia. Quindi questo direi che lo consiglio, appunto, magari a qualche studente del liceo, a qualcuno che vuole avere un libro introduttivo sull'argomento. Passiamo a quello per gli esperti. Questo è un bel libretto di Renzo De Felice, La storia degli ebrei italiani sotto il fascismo. Questo non è prettamente sull'Olocausto, ma è tutta la storia degli ebrei, appunto, durante il periodo fascista. E' un testo che è risultato anche scomodo, come tutti i testi di De Felice. Qui abbiamo un indice bellissimo. Dove c'è non solo la differenza fra antisemitismo e antisionismo, ma anche le differenze in questo capitoletto qua, fra italiani e tedeschi. E poi abbiamo una grandissima parte di documenti in appendice, come vedete, quasi 200 pagine. La differenza qua, anche qua, a livello di indice fra persecuzione e sterminio. E di questo volevo farvi vedere uno dei documenti in indice. Adesso lo devo ritrovare, che non è facilissimo senza l'indice dell'appendice. C'era una cartolina. Mi pare fosse questo, forse mi sto confondendo con... Ah, un attimo, che forse mi confondo con i testi. Sì, credo che mi stia confondendo con gli altri testi di De Felice che ho letto. Perché erano... Ah no, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Questa bellissima cartolina, anzi volantino antisemita dei fascisti inglesi, come leggiamo qua su, dove dice chiaramente che Mussolini ha abbandonato il fascismo per il gangsterismo ebreo. Praticamente questo volantino inglese ci informava del fatto che all'epoca del 35 siamo, non l'ho inquadrato l'anno, ma è del 35, che all'epoca i fascisti internazionali erano contrari al fascismo mussoliano, che era, fra parentesi, l'unico vero fascismo, perché non era antisemita. Questa è una delle tante cose controverse che troverete in questo bel libro di De Felice, che però è molto pesante. Già questo, prima di un'università, non lo consiglierei anche. Molta gente, fra lavoro e altro, non trova il tempo per leggersi un mattone del genere, ma è il testo più completo. Il terzo libro, che è quello controverso invece, a cui voglio fare una premessa, se avete seguito il discorso di Mattarella di inizio settimana, sul fatto che Pesaro è quest'anno capitale della cultura, e dice una cosa molto interessante, ovvero che la cultura non ha ideologia, ed è una cosa che, diciamo, gli intellettuali che di solito si identificano di destra, gli intellettuali, quelli lì contro il sistema, ripetono da decenni. Forse quest'anno si è svegliata anche la politica e le istituzioni, dato che finora io la cultura, perlomeno a livello universitario molto fortemente, e anche a livello istituzionale, è di parte di partito, cioè c'è poco da fare. Quindi questo libro non è sugli ebrei, non è sull'Olocausto, ma essendo la giornata della memoria ed essendo un libro su dei campi di internamento, credo che possa essere letto da tutti. Ed è questo qua, i campi dei vinti, civili e militari nei campi di concentramento alleati in Italia. Questo libro pubblicato da Cantagalli è piccolo, ed è scritto anche abbastanza grande. Ci descrive in modo chiaro quelli che erano i campi per i prigionieri fascisti in Italia organizzati dagli americani, e ce li divide così. Il concentramento dei civili, i campi per i civili prisso nel off-war, il concentramento dei militari, i campi dei militari e le conclusioni. Poi abbiamo anche una memoria, il ricadro del giudice nel campo di Padula, che era uno dei peggiori. E questo libro, oltre a informarci che c'erano anche, e questa cosa ve la voglio leggere, alcuni di detenuti famosi abbiamo, eccoci qua, Achille Lauro, poi che è diventato leader monarchico, Achille Mussolini, Ezra Pound, Riccardo del Giudice, sottosegretario di Bottella Vene, Ezio Maria Grai, che era stato dirigente dell'MSI, Valeria Maria Pignatelli, poi abbiamo Giorgio Pisanò, Mirko Tremaglia, Raimondo Vianello e Walter Chiari, questa cosa in pochi la sanno, che sia Rianello che Chiari furono iscritti all'interno dell'RSI, e poi abbiamo gli ultimi due, Giuseppe Dordoni e Enrico Ameri, e altri moltissimi nomi, anche insospettabili, di un lato della nostra storia, che è appunto dimenticato. Questo libro, pubblicato da Cantagalli, non ricordo se l'ho detto, fa chiarezza su questi campi, su queste persone che hanno anche loro sofferto, e se a qualcuno può interessare, oltre a ricordare appunto gli ebrei, direi che questo libro, specie qua in Italia, può far parte tranquillamente di una libreria di chi si interessa all'argomento. Per questo video è tutto, non ho altri libri da consigliarvi, e spero che a qualcuno possano tornare utili. Arrivederci.